Non ce l'ha fatta la donna che è stata investita nell'incidente avvenuto ieri mattina in via Pio X ad Agropoli. Aveva riportato gravi ferite ed era stata trasportata in un primo momento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e poi, viste le gravi condizioni, ineliambulanza a Ruggi di Salerno. La donna era molto conosciuta in città e ben voluta da tanti per la sua solarità e dolcezza e stata investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pio X. Questa notte, purtroppo, il suo quadro clinico è peggiorato e non ce l'ha fatta. Lascia il marito e i due figli. La dinamica del sinistro stradale è attualmente al baglio dei militari della compagnia di Agropoli per ricostruire la giusta dinamica dell'incidente stradale. La redazione di Cilento Channel si associa al dolore che ha colpito i familiari ed estende le più essentite condoglianze per la cara signora Isa. Questo inesimo incidente stradale, purtroppo fatale, ha scatenato la rabbia di tanti cittadini che da tempo lamentano una problematica quale quella dell'alta velocità in città. Si riaccendono i riflettori e si chiede ai sindaci dei comuni di istituzione delle zone 30, aree urbane nelle quali le vie hanno il limite di velocità a 30 chilometri orari in adeguamento a specifiche normative comunitarie e sull'esempio di città europee dove il limite vige da tempo. Una società che accetta incidenti stradali e stragi stradali a tutte le ore del giorno e della notte non è una società civile. I comuni tutti devono garantire la salute e la sicurezza e un vivere dignitoso ai cittadini. A sottolinearlo ancora una volta è la presidente Teresa Stone dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. La guida calma, riduce rumore, inquinamento, consumi, morti e feriti. La sicurezza si costruisce illuminando bene gli attraversamenti pedonali, mettendo scivoli per carrozzine, allargando i marciapiedi, prevenendo le situazioni di pericolo. Si costruisce limitando il numero e la velocità dei veicoli circolanti, diminuendo la velocità da 50 a 30 nelle aree urbane. È più facile evitare gli incidenti, sottolinea Teresa Stone, presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Salerno e Cilento, un ambiente più vivibile, continua Stone, favorisce la rinascita dei quartieri e del commercio locale. La quasi totalità degli acquirenti dei negozi di quartiere sono pedoni e bisogna pensare anche a questo. Quando vi si parla di zone 30, la velocità moderata migliora la sicurezza dei pedoni e l'incidentalità cala dell'8%, non si può andare avanti così. Chiediamo ai sindaci di stimolare provvedimenti di miglioramento della viabilità con le zone 30.